Santa Margherita Ligure Facciamo sempre cose nuove, ci siamo inventati cose per la musica, attrattive per i bambini, spettacoli per i bambini, spettacoli per i grandi, spettacoli all'aperto che facciamo come quello della scorsa settimana in strada e direi che sono sempre cose che piacciono molto. Qui ci sono bambini, ci sono adulti, c'è soprattutto gente che viene da tutto il mondo, tanti italiani naturalmente, ma tantissimi stranieri. Ecco, cosa trovano da Cinzia e da Mario? Allora, in genere cercano sempre prodotti tipici della zona e io consiglio ovviamente i nostri prodotti di questa terra, di questa regione proprio per far conoscere le nostre specialità. Perché fondamentalmente le persone che vengono qui cercano proprio il particolare e cercano il modo di poter conoscere anche attraverso il cibo e il vino le nostre proposte della nostra terra. E di solito piacciono molto, anzi sono sempre molto estasiati le persone che vengono qui. Mario, tu sei uno chef a tutti gli effetti, hai un grande curriculum, hai lavorato a Portofino, in tantissimi locali, però sei prestato alla pizza perché è un grande piatto italiano, no? Sì, allora diciamo che la pizzeria è molto bella, è arte, come la cucina, devi volerli bene, amarla e la pizza viene bene. Poi chiediamo la collaborazione ai clienti, prendiamo spunto da quello che loro ci chiedono e noi facciamo le pizze anche sotto consiglio dei clienti, modifichiamo, facciamo, inventiamo. Pizze su misura praticamente. Su misura, cioè facciamo pizze che di solito non si fanno mai, abbiamo fatto la pizza con la carbonara, abbiamo fatto la pizza con la Felicity che è molto bella, è molto buona, è fatta con i pistacchi, lo speck è molto buono. Abbiamo fatto anche la pizza Rossini con le uova sode e la maionese, cioè sotto consiglio dei clienti noi cerchiamo di chiedere la collaborazione, secondo la collaborazione noi facciamo, li accontentiamo un po' in tutti i modi. Qual è il segreto per fare una buona pizza, ma poi ti domanderei qual è la tua preferita? Allora, la buona pizza è la lievitazione, la lievitazione è fare l'impasto, lasciarlo riposare e poi quando ha riposato bene si fanno le palline, si lavorano e da lì nasce una buona pizza. Ma farla riposare, non esagerare con il lievito, io praticamente non ne uso, uso la madre che continuo ogni volta che faccio un impasto e ce la metto dentro, lievitazione è lenta ed è molto buona. Grazie a tutti. Cinzia, a questo punto un piatto che tu consigli della cucina? Un piatto della cucina che consiglio? Vabbè, oltre alle trofie al pesto con patate, fagiolini, pansotti e le salsa di noce che sono proprio tipici della nostra terra, oltre che alle lasagne che facciamo anche queste col pesto, direi che quelli che vanno più per la maggiore e appetitosissimi sono gli spaghetti Mario, che è una nostra ricetta con le vongole, i peperoni tagliati a listarelle, i pinoli tostati e lo zafferano. Quindi un gusto un pochino più intenso, dei soliti spaghetti alle vongole, ma veramente gustoso. Per chi ci volesse venire a trovare, siamo aperti, pranzo e cena tutto l'anno. Venite da Cinzia. Venite da Mario. Grazie. 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 Grazie a tutti.